Per il cinema italiano, la manifestazione che si svolge negli spazi di Santa Croce in Gerusalemme, nella sede del MIBAC, è giunto alla serata dedicata ai fratelli Taviani. Stasera il pubblico vedrà Good Morning Babilonia e noi abbiamo qui con noi Paolo Taviani. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Come sono venuti? Ti ha fatto piacere che la Cineteca abbia deciso di intervenire in maniera così robusta sulla vostra opera? Buonasera a voi. Tu hai ricordato San Michele aveva un gallo. San Michele aveva un gallo è un film che era scomparso in genere. L'hanno visto in pochi. Quindi che sia stato proiettato davanti a un pubblico che l'ha seguito con entusiasmo, devo dire, quella sera, mi ha commosso anche perché in sala c'era Giulio Brogi. Giulio Brogi è venuto apposta ed è morto poco dopo. Alla fine della proiezione mi ha detto che è il mio film più bello, ma anche il vostro film è più bello. E dicendo questo poi si è spostato ed è inciampato perché già stava un po' male. Io ho capito che aveva fatto un grande sforzo per venire a vedere questo suo film che io sono contento che il pubblico abbia visto perché è un film che abbiamo molto amato. Tu pensa che quando l'abbiamo proiettato a un convegno di cinema che era a Perugia c'erano i critici italiani e un critico molto importante dopo la proiezione è venuto da noi e ci ha detto bello, è bello, ma a chi va? Ma chi lo vedrà mai questo film? Quindi voi l'avete fatto e qua finisce a Perugia. Dice pensateci la prossima volta. Quindi ci abbiamo pensato e l'altra sera la risposta c'è stata. E quindi che i nostri film vengono proiettati, tre addirittura ci dà molta gioia e tra l'altro vengono proiettati in questa, come lo posso chiamare, festival, convegno, come lo puoi chiamare questa manifestazione che voi fate? Tecnicamente è una rassegna, però puoi chiamarla come vuoi. Ecco questa rassegna, che è una rassegna che mi colpisce perché sono solo tre anni che voi vi occupate di costruire questa rassegna e che in genere non ho visto, io sono vecchio, non ho visto tante di rassegne, nate e morte, nate e morte, abortite, qualcuna è sopravvissuta. Tutta questa in tre anni è sbocciata, è fiorita. Oggi ho visto il programma di quest'anno ed è straordinario perché c'è tutto il cinema italiano, quello di oggi, quello di ieri, parte di quello di ieri evidentemente, ma c'è una ricchezza di informazione e poi c'è il centro sperimentale, i giovani, io non l'ho visti ma la presenza dei laureati o dei giovani del centro sperimentale che fa parte di questa rassegna, non è che ogni tanto diciamo e ora vi facciamo vedere anche un tempo si diceva oddio, cosa arriverà mai? Invece no, questo fa parte di questa rassegna e la trovo quindi una iniziativa straordinaria a cui auguro veramente di continuare e allargarsi sempre di più. Complimenti. Beh, grazie mille Paolo, ma complimenti anche a voi per i vostri film naturalmente. Tu hai avuto modo di seguire questi tre restauri, mi ricordo che ci siamo visti una volta a Cinecittà insieme a Mario Masini, proprio per San Michele aveva un gallo, Beppe Lanci che aveva fatto la fotografia ha avuto modo di seguire quello di Good Morning in Babilonia. Com'è stato proprio dal punto di vista di regista seguire questi restauri, vedere come i film venivano messi a posto? È stato interessante anche tecnicamente, hai imparato qualcosa di tecnico che magari non sapevi? Una sofferenza inaudita perché vedere a pezzi il film che noi in genere non abbiamo quasi mai rivisto i nostri film. Le proiezioni che ci sono state, noi andavamo all'inizio, salutavamo il pubblico, poi andavamo a cena. Tornavamo alla fine e salutavamo il pubblico e vedevamo le reazioni quali erano state. Lì, inchiodato sulla sedia, ho dovuto vedere tutti i film pezzo per pezzo per pezzo per pezzo. Quindi non riuscivo a capire se erano belli, brutti, che era questa roba. Mi interessava solo volta a volta che il restauro funzionasse e in questo senso il lavoro è stato fatto straordinario, devo dire. Si fanno sempre i complimenti ai restauratori ma questa volta li faccio di cuore perché è vero, è stato fatto un lavoro straordinario. E quindi è stata una sofferenza però che poi ha portato gioia. Abbiamo parlato di questi tre film ma so che c'è un quarto film di cui tu vorresti parlare. Padre Padrone, ti do la parola, di quello che vuoi su Padre Padrone che vorrebbe essere il futuro immediato di questo lavoro. Beh sì, Padre Padrone è una grande ingiustizia che non sia stato il primo ad essere restaurato. No, perché, a parte che è la Palma d'Oro, ma perché è un film girato in 16 mm. Era per la televisione, doveva uscire la sera alle 11 e mezzo in televisione. Poi per un caso strano è andato a Cannes. Però per andare a Cannes dovevamo gonfiarlo a 35 e l'abbiamo gonfiato. All'epoca, non è come oggi che queste operazioni, la tecnologia aiuta moltissimo e si fanno delle cose straordinarie manco di un accorgere. A quell'epoca era proprio poah, abbassavi sopra e sotto e poi sfocavi un po' dentro. E quindi il film, quando l'abbiamo visto gonfiato in 16 mm, era bellissimo. La fotografia di Masini era diventata un'altra cosa, un'altra cosa. Io e Vittorio, ricordo che a Cannes, alla proiezione, nello schermo grande, questo taglio dell'inquadratura, delle teste, delle bocche, cioè non abbiamo guardato, tutte e due abbiamo chiuso gli occhi e veramente così siamo stati tutto il tempo con grande sofferenza. Alla fine del film c'è stato un grande silenzio, la gente si è alzata e è uscita. Io e Vittorio abbiamo detto Lo vedi? Non dovevamo venire. Non era un film per Cannes, perché Cannes è un'altra cosa. Poi, conciato come è conciato. No vabbè, siamo usciti e devo dire invece che c'era una folla che ci aspettava fuori e c'è stato quel successo che poi è stato quello di Padre Padrone. E mi ricordo che Rossellini ha detto il lavoretto non è stato fatto molto bene, si può fare anche meglio, però va bene così. E come cadono poi nella storia del cinema questi avvenimenti. Io e Vittorio siamo stati collaboratori di Ioris Evans e mi arrivò una lettera di Evans bellissima che parlava di Padre Padrone, bellissimo, e concludeva dicendo e poi la più grande invenzione è quelle sfocature che ci sono dentro. Che veramente aver scelto di non dare il fuoco a tutte le immagini del film è la trovata più grossa di questo film. Ma evidentemente quando un film ti piace ti piace tutto, anche quello che non è bello perché tu partecipi. Allora se c'è vuol dire che ci doveva essere. E quindi così è accaduto anche altre volte. Ora questo film deve essere restaurato ed è molto difficile perché bisogna recuperare il 16 mm, riportarlo a 35 mm e poi fare questi tagli, rifarli, ma fatti con la tecnologia di oggi che in questo senso è benedetta che venga. Però una domanda. La filosofia della Cineteca Nazionale è quella che quando si restaura un film lo si riporta all'intenzione originaria dell'autore. Quindi forse bisognerebbe restaurarlo com'era in 16 mm con le tecnologie digitali di adesso? Ritornare al formato del 16 mm? Qual è il tuo parere su questo dettaglio tecnico che però dettaglio non è, mi pare di capire? Negativo perché il film il film è quello ormai è quello per tutto il mondo perché è un film che è uscito in tutto il mondo e conosciuto ovunque, amato diciamo un po' dappertutto e quindi il film è così ormai. È chiaro che una copia in 16 mm andrebbe fatta per vederla e appaiarli e vederla un accanto all'altro quindi sarebbe sarei felice e Vittorio sarebbe molto felice con me proprio perché se ne hai parlato tante volte di questo avere rivedere quei 16 mm ma forse ci illudevamo non lo so ci sembrò così bello forse non lo era comunque per noi era bellissimo averlo come era come è nato come è stata la nostra gioia e sofferenza e poi quell'altra tutte e due speriamo di farcela che però sei venuto sull'ipotesi del tutte e due e sarebbe bello un doppio restauro una doppia copia con una futura edizione in DVD in due dischi con entrambe le versioni quella che piaceva Evans e quella che piaceva Rossellini Paolo Taviani è sempre una gioia incontrarti grazie grazie a te veramente e a tutti voi per questo lavoro che state facendo che è veramente straordinario ti confesso forse vi avevo sottovalutato inaspettato così bello grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti